Ciao ragazzi, è uscito il nostro libro! Ci vediamo a Roma sabato 18 maggio, ore 15, Feltrinelli Viale Libia. Poi ci vediamo anche a Firenze sabato 25 maggio, ore 15, Feltrinelli Piazza della Repubblica. E infine ci vediamo a Casania sabato 8 giugno, ore 16, UBIC, Centro Commerciale, I Portali. Vi aspettiamo! Che dormita che mi sono fatta, ho dormito veramente benissimo. Ma fuori c'è la luce, vuol dire che giorno mai io devo andare a scuola, babbo! Mi scappi, mi scappi, mi scappi, babbo, 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 come sei? Babbo, 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 dove sei? Già, giù già, vuoi il babbo. Ok, babbo! Babbo, 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 che stai facendo? Perché non mi ha portato a scuola? Che ore sono, saranno neato, la scuola è già iniziata, dai portami a scuola! Giorgio, non ho capito niente, ma che scuola è scuola Giorgio? Oggi è sabato, ti devi riposare, scuola non ce n'è e io ti sto pure in di quota, così dopo puoi giocare. Vai, ora per piacere, vai in camera, vatti a vestire, lavi la faccia e vai a fare colazione, che sono le dieci, ciao! Ah, scusa, farò comunque è sabato! Uau, che bello, posso fare tutto quello che mi pare, sì! Babbo, io mi faccio dei giri in bici! Va bene, Giorgia, però io non posso stati dietro, ok? Che ti controlla? Perché se caschi, poi ti fai male! Babbo, sta tranquillo, tra poco o tanto arriva Stefano Aurora! Yeah! No, Giorgia, non mi mordere la scarpa che mi faccio male! Giorgia! Un po' che si faccio, non ce la faccio più, ti voglio fare un bagno in piscina! Ciao, zio! Ah, ciao Stefano, è arrivato! Giorgia, è arrivato Stefano! Tutto fraggio! Ah, sì, arrivo! Ecco, vada, è qui Giorgia! Ciao Stefano, meno male che sei arrivato, mi stavo proprio annoiando! Ok, Giorgia, però una domanda, ma per caso hai invitato me e basta oppure anche l'Aurora? Non ti preoccupare, hai invitato anche Aurora! Puoi invitato anche l'Aurora? No, 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 no! Più come no! Ciao ragazzi, è uscito il nostro primo libro! Lo potete trovare in tutte le librerie d'Italia oppure su Amazon! Correte a comprarlo! Ciao, porza! Oh, ma è pieno d'acqua! Ciao Stefano! Ciao! Ragazzi, basta che scena è imbarazzante, vabbè! Giochiamo un pochino? Sì, sì, bella idea! Sono un'ottima idea, sì! Ragazzi, giochiamo a basket! Chi si sfida con me? Ehm, vai te! No, no, vai prima te, vai! No, no, davvero voglio essere gentile, è meglio che... Tranquillo, vai prima te! No, perché no, perché la gentilezza è la prima cosa! Io non voglio andare, vai te! No, 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 davvero, insisto, lo so che tu vuoi andare, è meglio che tu vada... No, Giorgia vuole te! Sono abbastanza sicuro, davvero, insisto, dovresti andare a te! No, no, no! Basta! Se si continua così, si fa notte, cambiamo gioco! Beh, bell'idea, sì, mi pare! Ragazzi, guardate quanto sono veloce! Yeeeey! Però va veloce, eh, vero? Cioè, effetti, io non ci riuscirei, avrei troppo paura! No, no, io poi in macchina, tutto il contrario! No, no! Ragazzi, guardate! Fa solo gamba! Giorgia, vai piano! Per favore, stai attento, non farti male, mi raccomando! Se no, il babbo si arrabbia, eh! Vero! Sì, che bello! Oh, dai, si è scaricato il quad! Uffa, non posso più giocare! Ragazzi, mi dà se non vanno a portare il quad a carica? Sì, arriviamo, arriviamo! Mi riuscire al giallo! Ecco, ecco! Lì, la mano io! No! Scusa, non volevo toccarti la mano, giuro, non l'ho fatto apposta! Vuoi andare te? Facciamoli insieme? Non lo so, è una bella idea, sei sicuro! Perché forse... No, no, ascolta, dobbiamo metterci d'accordo, se no non è possibile! Vai te! Vado lì! Allora, io non voglio chi struirbare! Ciao, ragazzi! Aspettatemi! Vado un secondo in casa e arrivo! È colpa nostra? Penso di sì! Ragazzi, comunque oggi Stefano Aurora sono veramente strani! Se lo pensate anche voi lasciate tantissimi like e continuate a seguirci! Babbo, babbo! Sì? Babbo? Sì, aspetta un attimo, Giorgia! Dai, vai, ci sentiamo domani! Ok, dai, scusami! Dimmi, Giorgia, cosa c'è? Stefano Aurora secondo me sono ancora imbarazzati! Come ancora imbarazzate? Che cosa vuol dire? Come si stanno comportando? Che cosa stanno facendo? Prima si stava giocando a canestro! E ho detto che chi vuole giocare con me! E loro due si facevano gentili! E dopo non diceva lei di andare! Ma lei non voleva andare! Poi mi si è fermato il quad! E ho detto che mi aiutava! Faccio io, faccio io, faccio io! E alla fine nessuno mi ha aiutata! E quindi, Giorgia, io ancora non capito niente! Come, babbo? Sono ancora imbarazzate da ieri che si sono dati il bacio durante il gioco della bottiglia! Allora, bacio a qualcuno con il nome che inizia per S! No, no, no! No, no, no! Ok! Ci sono baciati! Eh, sì, ci sono baciati! Giorgia, che cosa vorresti fare? Così non si possono comportare però, eh! Sì, è vero, ma non ne ho idea! Come non hai idea? Sei tu che ti fai vedere sempre tutte le destra? Si state complottando quei due? Eh... Niente! No, come niente! Gli va detto anche la mamma questa cosa! Che cosa? Vabbè, te lo dico io! Dici, Giorgia, ma io non l'ho visto! Che Aurora e Stefano si stanno un po' complottando strani! Cioè, si sono un po' imbarazzate tra loro due! Cioè, non riescono a parlarsi, a baciarsi! Insomma, non chiacchierano perché, secondo Giorgia, sono ancora imbarazzati dal bacio del gioco della bottiglia! Ah, eh! Può essere! Quindi avevate qualcosa in mente? Eh! No, stavo un po' discutendo di questa cosa che non ci viene niente in mente! Te, Giorgia, ancora niente! No, venga niente! Idea! Li possiamo organizzare un matrimonio! Un matrimonio? Ma se a malapena si conoscono e a malapena ci è scappato un bacio! Figurati se si sposano! Però sarebbe tanto romantico! Babbo, non capisci nulla! Io sono d'accordo con la mamma! Ok, allora, dobbiamo organizzare questo matrimonio! Basta solo che loro non scoprano nulla! Ok! Inizia, secondo me, non è una buona idea! Secondo me sì, invece, dai! Ok! Ragazzi, ragazzi! Fatevi spazio! Ho una bellissima notizia per voi! Eeeh, che notizia, Giorgia? Mamma e Babbo vogliono rinnovare le promesse e quindi organizzeremo un bellissimo matrimonio! Che bello, Giorgia! Davvero? Oh, che bello! Sono veramente romantici lo zio e la zia! A questo punto, ragazzi, andatevi a vestire super eleganti e tornate tra un paio d'ore! Va bene! State veloci! Ciao, Giorgia! Ah, io sto qui a rilassarmi qualche minuto! Oh, ma che sto facendo? Non mi posso riposare! Devo organizzare il matrimonio di Aurora e Stefano! Mamma e Babbo, li ho cacciati via! Giorgia, eeeh, che cosa gli hai detto? Giorgia, gli ho detto che siete voi a rinnovare le promesse e così li ho cacciati via dicendogli di vestirsi molto eleganti! Così dopo, quando arriveranno, saranno già pronti per il matrimonio! Secondo me non la prenderanno tanto bene e questa idea non mi piace! Come si fa a organizzare un matrimonio? Ah, mamma e Babbo, come si fa a organizzare un matrimonio? Voi vi siete già sposati? Eeeh, come si fa a organizzare un matrimonio? Eeeh, che ne so, innanzitutto sono un maschio e poi non ci ho pensato io a organizzare un matrimonio, ci ha pensato la mamma! Eeeh, come si fa? Allora, anzitutto serve il prete, numero uno! Poi, la ragazza per gli allestimenti, così mettiamo su una bella situazione e poi, ah, il bouquet per la sposa, eeeh, qualche altro fiorellino eeeh, ah, certo, gli anelli! Mamma mia, quante cose! Vabbè, allora, io vado a chiamare il prete! Ok, bene, io chiamo la ragazza per gli allestimenti e per i fiori! Eeeh, allora che manca? Ah, io su devo avere degli anelli, li vado subito a prendere! Eeeh, dove c'è gli anelli? Ah, nel cassetto! Primo, nooo, secondo, neanche! Ah, allora dove ne ho messi? Qui no? Ah, mi ricordo! Qui dentro! Eeeh, sì! Guardate che belli! Adesso devo correre giù! Uaau! Non vedo l'ora che si sposino! Voi ragazzi da casa lasciate tantissimi like e continuate a seguirci! Ah, è arrivato il momento di chiamare il prete! Ora, spero che il prete sia almeno disponibile! Che il signore sia con voi! Sì, la messa è finita! Andate in pace! Amico! Chi mi chiama? Pronto? Don Gabriele? Pronto, pronto figliolo, mi dica! Mi scusi se la disturbo! Avrei un'urgenza! Eh, oggi si devono sposare due ragazzi! Eh, potrebbe essere disponibile per fare la messa? Un matrimonio? Ah! Ma io ho da fare altre tre messe quest'oggi! Va bene, dai! Finirò questa e arrivo! Ok! Bene! Grazie mille! Allora ci vediamo tra circa due orette! Grazie! Grazie Don Gabriele! Arrivederci! Arrivederci! Grazie! Arrivederci! Perfetto! Eh, il prete è prenotato! Ok! Perfetto! Ci siamo tutti! Io ho chiamato il prete e arriva tra circa due orette! Io invece ho trovato le feti! Guardate che belle! Eh, invece c'è un problema! La ragazza degli allestimenti e dei fiori non può venire! Quindi... Salvo! Come salvo? Salvo che? Salvo, devi andare via a comprare il teletro! Ma dai! Ma io non ci capisco nulla! Avete i fiori, allestimento! Per forza io? Ti faccio l'elenco! Ok! E voi preparatevi, anche voi vestiti eleganti e preparate anche qualcosa per me! Allora, ciao! Speriamo che il papà trovi qualcosa di carino! Sì, è vero Giorgia! Senti, ma ora che si fa? Ho un'idea! Vieni! Possiamo leggere il nostro libro Salvo e Giorgia mi si è ristretto papà! Che è già uscito in tutta la ribellaria d'Italia! Ragazzi, noi da casa, se ancora non ce l'avete, andatelo subito a comprare! Sì, dai, dove arriviamo rimasti! One hour later! Che cosa ho fatta? Giorgia! Cinzia! Ho trovato il materiale! Datemi la mano! Giulia, ma muovete! A me mi avete lasciato tutta la roba pesante! Muovetevi! Veloce! Sì, sì! Veloce! È facile! Fai di più! No, più a sinistra! Così va bene? Ma no, più di qua! Ma come più di qua? Ma dove dobbiamo andare? Scusami! Allora, andiamo, su! Va bene qua, lo lasciamo qua! No, ma mi è super bene! Va bene, dai, lo mettiamo dopo per bene! Ma è a monica! Questo? Allora, più avanti! Ok! Va bene! Sì, perfetto! Ok, qui! Che è successo? Mi sa che ha suonato qualcuno, vado a vedere chi è! Ok, veloce, Giorgia, veloce! Chi è? Ma chi è? Ma chi è? Sì, però, ma che ti fai qua? Ancora il matrimonio, ci vuole un'ora prima che inizi! Eh, lo so, Giorgia! Ma vedi, ho dimenticato il telefono, posso entrare un attimino a riprenderlo? Eh, no, 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 se non puoi venire, lo vado a prendere io! Ma dai, insisto! No, 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 no! Non ti preoccupare, Giorgia! Lo vado a prendere io! Va bene, va bene, allora aspetto qui! Ecco, tieni il cellulare, a dopo tornare un'ora! Ciao! Ciao! C'è mancato poco che scoprisse tutto, arrivo! Perfetto, che vedete va bene? Sì! Ragazzi, secondo me sarà un matrimonio bellissimo! Se lo pensate anche voi, lasciate tantissimi like e continuate a seguirci! Giorgia, che dici, ce la dai una mano? No! Ok! Forza, veloci! Ce l'abbiamo fatta! Sì, l'abbiamo montato tutto! Penso che non manca nulla! Ora mancano gli sposi e ovviamente il prete! Non l'ho suonato! Ah, forse è lui! Venite! Ah, ecco, Don Gabriele, ci siamo! Salve figliolo! Perfetto! Lei è il padre dello sposo? No, il padre? Perché serve il padre? No, comunque no, non sono il padre, sono lo zio! Ah, ecco che... Bene, bene! E lo sposo o dove? E lo sposo si fanno attendere, quindi dovrebbe essere quasi in arrivo! Comunque, allora io l'accompagno così vi faccio vedere dove sarà celebrata la messa! Bene, perfetto! Prego, prego! Qui è dove sarà celebrata la messa! Io mi vado a cambiare così mi veste anche io un po' elegante! Ottimo, ottimo! Allora io ripasserò il Vangelo! Bene, ciao! Ben arrivati figlioli! Siete voi gli sposi? No, no, no! Non sarà, no, no! Sono solo qui per vedere la messa! Siamo arrivati! Siamo pronti! Eh, ok! Come sei vestito lo zio? Davvero? Si sposerà in questo modo! Vai che bello, siamo pronti! Di sicuro ci cascano! Bene, vedo che ci siamo tutti fratelli e sorelle! Adesso possiamo cominciare con la cerimonia! Chiamiamo qua i due sposi! Aurora, Stefano, venite! La messa comincia! Cosa? Noi? No, non c'è stato detto niente! Io non c'è stato niente! Su, io mi sposi! Auguri! Vai Giorgio vai! Ecco, questo è il bouquet! E questo è il velo! Su, su, veloce, veloce! Ok! Che guai sposa! Dai, inizia la messa! Bene, benvenuti! Oggi siamo qua per festeggiare l'unione di Stefano e di Aurora! Per la vita! Quanto sono carini! È vero! Che bello! Se c'è qualcuno contrario a questa unione, parli ora o taccia per sempre! No, no, no! Non c'è nessuno! Può andare avanti, può andare avanti! Bene, essendo che nessuno sia opposto, cominciamo con il rito! Stefano, vuoi tu prendere in sposa Aurora? Nella gioia e nel dolore! Nella malattia e nella salute! Fino a che la scuola non vi separi? Sì, io non lo voglio! Ok, bene, tu invece Aurora, vuoi prendere come sposo Stefano? E sempre nella gioia, nel dolore, nella malattia e nella salute! Lo vuoi? Ma in realtà ci siamo baciati solo una volta! Ma certo, ma certo, ma basta anche solo una volta per sprigionare l'amore! Beh, allora lo voglio! Bene, allora contentate! Scambiatevi gli anelli! Oh, che belli! Li prendo tutti e due io! Metto uno qui e uno di qua! Stefano, guarda che uno dovrebbe andare a me! Ah! Eh, ok, allora prendo questo e te lo do! Ma quale dito? Questo? Quale? L'anulare! Ok, 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 questo? Ok, bene! Bene, adesso che vi siete scambiati gli anelli, vi dichiaro ufficialmente marito e moglie! Adesso Stefano, puoi baciare la sposa! No, no! Stop! Ora lo voglio vedere il bacio! Viva gli stasi! Viva gli stasi! Auguri! Ah, sì, io lo voglio! Stefano? Ma che sta succedendo? Ma che gli sta venendo un infatto? Oh, Stefano! Stefano! Eh, ma si sta bene? Hai sonno? Vuoi che ti preparo un letto? Ma che cosa? Ma era solo un sogno? Non è possibile! Però era bellissimo! Tu! Tu vai, tocca a te! Ok! Ragazzi, avete visto? Mattia è sempre a casa nostra! Sembra quasi di avere un altro figlio! Invece chi è? È il fidanzato di Giorgia! Devo trovare un modo per cacciarlo via! Ma ti cade, 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 cade! No! Un vinto! Sì, però ho vinto! Yeee! Voglio la rivincita! Va bene, ti darò la rivincita! Tanto vinco io di sicuro! Sì, questo lo vedremo! E fai così! Ha vinto subito il verzo! Ehi, voi due! Fai un po' di spazio! Oh, così! Ma vi volevo chiedere, perché non cambiate gioco? Così non state così vicini? Ciao, bro! In effetti, mi stavo anche un po' annoiando a perdere tutte queste volte! Eh, bravo! E quindi si cambia gioco, sei d'accordo? Anzi, suggerirei di giocare a nascondino, così state abbastanza separate, che dite? No, babbo! Nascondino è noiosissimo in due! Sì, bro! È noioso e poi a me mi è venuta anche un po' di fame! È vero, Mattia! Anche a me mi è venuta un po' di fame! Che non dici invece di giocare a nascondino e di andare a fare merenda? Sì, Giorgia! Buona idea! Oh, che buona idea! Ma fanno sempre di tutto per stare insieme! Ciao ragazzi! È uscito il nostro primo libro! Lo potete trovare in tutte le librerie d'Italia oppure su Amazon! Correte a comprarlo! Ma Mattia, te giochi a calcio? Sì, io gioco a calcio! Il mio ruolo è l'attaccante e faccio molti gol! Ti ricordi che io vado anche a cavallo? E ieri ho fatto una gara e ho vinto tutte le medaglie se potevano vincere! La gara era che dovevo saltare gli ostacoli! Ho fatto solo una penalità, ma ho vinto lo stesso! Stare ad ascoltarlo per ore ragazzi! È bravissimo! E io voglio fare una piccola, cioè... come si chiamano oggi? Cavallo! Ah, bene! Ma io voglio saltare con i torti e... Ma te che vuoi fare la grande? In modo che è forte! Ah, ma è così ma no! No ragazzi, ma l'avevi visto? Sono sempre insieme! Non capisco cosa ci trova lei in lui! È un bambino normale come tutti gli altri! Comunque, lo devo cacciare via! Ma che cosa mi invento? Che cosa mi invento? Che cosa mi invento? Come faccio? Che fai qua? Che ci faccio qui? Che ci faccio qui? Ah, ah! Stavo andando a bere! E non posso andare in cucina a bere anch'io? Anzi, tu vuoi che cosa... Che cosa volete fare adesso? Bro, io devo andare via! Ti dispiace, vero? Sì, quanto mi dispiace! Vai, allora ci vediamo la prossima volta! Anche lontano, ok? Ciao, Mattia! Oh! Ehi, voi due! Oh, Giorgia, non è che sta andando in guerra! Sta andando a casa, eh! Ciao, Mattia! Vieni, ci vediamo la prossima volta! Eh, forse no! Ciao! Ce l'ho fatta, ragazzi! Sì! Giorgia, essendo che Mattia è andato via, e quindi io posso stare più tranquillo, io direi che vado a fare una piccola pennichella! Mi vado a riposare un po'. Te che fai? Eh, babbo, visto che te vai su a dormire, io vado fuori a giocare! Ok, stai attenta e non ti fare male! Ok, babbo! A dopo! A dopo! Oh, ragazzi, ci voleva proprio! È divertentissimo! Wow! Sì, ce l'ho fatta! Certo che quando c'è Mattia mi diverto di più! Da sola mi annoio un pochino! Ragazzi, mi è venuta un'idea pazzesca! Però, per mettere in nota questa idea, mi serve la mamma! Perché da sola non so come fare! Ragazzi, se siete curiosi dell'idea che mi è venuta in mente, lasciate un bel pollicione e iscrivetevi al canale! Mamma! Mamma, mamma, mamma! Che c'è, Giorgia? Eh, ti posso dire una cosa? Eh, vabbè, stavo leggendo, però! Dim! Eh, in mente mi è venuta un'idea, però ho bisogno del tuo aiuto! E che idea avresti avuto? Sentiamo! Ho deciso che mi voglio sposare con Mattia! Come, Giorgia? Ti vuoi sposare con Mattia? Ma lo sai che i bambini non si possono sposare? Sì, dai, mamma, una cosa così, per gioco! Vabbè, se è per gioco, Giorgia, anche se non so se il tuo babbo sarà così contento, eh! Però vediamo se si può fare! Ok! Ci sono... Ah, siete qui! Eh, io vado a fare un attimo carburante! Ci vediamo dopo, ragazzi, ok? Eh, sì, sì, babbo, babbo! Fai con calma, fai con calma! Non ti preoccupare! A dopo! A dopo! Essendo che io non mi sono mai sposata, invece se ti sei già sposata con babbo salvo, eh, come si fa ad organizzare un matrimonio? Guarda, essendo che il babbo è andato via, ne possiamo anche approfittare! Comunque ci sono da fare un sacco di cose! Eh, a qualcosa penso io! Te intanto inizi a telefonare a Mattia e dirgli di venire qui con un abito elegante, ok? Mentre io devo telefonare al prete, alla ragazza per l'allestimento, alla fioraia, eh! Ok, iniziamo? Sì, ok, mamma! Io vado subito a chiamare Mattia! Mamma mia, come sono emozionata per la mia bambina! Che bello! Ok, speriamo che risponde! Oh, ciao, Mattia! Senti, ho deciso! Vieni a casa mia che ci sposiamo! Ah, e vieni anche con un abito elegante! Vieni subito? Ok, ti aspetto! Ciao, a dopo! Oh, sì, che bello! Mi spazio con Mattia! Non vedo l'ora! Ok, ragazzi! Adesso vi faccio vedere l'abito da spazio che mi ha comprato la mamma! Guardate, è bellissimo! Se vi piace lasciate un bel bollicione! Wow! Ah, e poi c'è anche altre cose! La cosa più bella ve la faccio vedere alla fine! Allora, questo è il velo che io lo adoro! Non so voi, ma a me mi piace un sacco! E adesso la cosa più bella! Mi sono fatto anche comprare le scarpette! Guardate che belle! Con tutti questi ciondolini! Wow, sono tutte glitter! Wow, io le adoro, giuro! Chissà cosa dirà Mattia quando mi vede con questo bellissimo vestito e con queste scarpette! A questo punto inizio a vestirmi, quindi ragazzi, vi devo lasciare! E chissà come sarà vestito! Bellissimo e elegantissimo Mattia! A dopo! Ragazzi, guardate, i preparativi sono quasi ultimati! Manca solo qualche piccolo ritocco! Però vi faccio vedere intanto come è venuta la zona dell'altare! È bellissima ragazzi! C'è la scritta LOVE con la O fatta a cuoricino! È spettacolare! E poi l'altare dove arriverà il nostro prete! E poi guardate qua, il tappeto rosso, dove la sposa, Giorgia, farà il suo ingresso! Non vedo l'ora ragazzi! Vediamo se Don Vincenzo mi risponde! Ma che mi sta chiamando? Oh no, ma perché mi disturbarlo sempre nel momento più... Ma vediamo un po'... Mamma Cinzia! Pronto? Pronto Don Vincenzo? Sì? Senta, vorrei celebrare le nozze di mia figlia! Ha disponibilità per oggi? Certo! 15 minuti e sono da lei! Ok, 15 minuti! Perfetto, grazie! Oh ragazzi, fra 15 minuti arriva Don Vincenzo! Devo andare a preparare il bouquet e devo andare anche a cambiarmi! Questo sicuramente è Mattia! Oh Mattia, vieni, vieni, mi aiuta! Mamma Cinzia, ti piace il vestito che mi ha portato? Ma è bellissimo Mattia! Sicuramente Giorgia sarà felicissima di vederti così elegante! Però adesso vieni con me perché Giorgia non ti deve vedere e tu non devi vedere lei perché altrimenti porta male prima del matrimonio! Vieni, vieni! Così! Ragazzi, anch'io mi sono vestita un po' elegante per il matrimonio della mia cucciolina! Guardate qua! Sì, vieni, va bene? Uh! Eh? Benvenuto Don Vincenzo! È tutto pronto? Guardi, gli sposi si stanno preparando! Venga, l'accompagno all'altare! Non vedo l'ora di cominciare! Giorgia è già pronta e ora scenderà dalle scale! Guardate un po'! Mamma, allora, come ti sembro? Amore mio! Ma sei bellissima! Grazie! Sei perfetta per questo giorno molto speciale! Guardate qua quanto è bella la mia bambina! Che emozione! Aspetta un secondo qui che ho ancora una cosa speciale per te! Sì, non vedo l'ora! Sono curiosa di sapere cos'è! Ecco qua, amore! Il tuo bouquet! Ti piace? Mamma, è bellissimo! A questo punto, Giorgia, io direi di andare fuori perché ci sono già tutti! C'è il prete e ci sono le testimoni e gli invitati che ti stanno aspettando! Anche Mattia è già pronta, amore mio! Vedessi quanto è bello! Non sei curiosa? Sono curiosissima dai! E qua andiamo! Oh che bello! Non vedo l'ora inizia la cerimonia! Sono emozionatissima! Chissà com'è bella Giorgia! Bene, la sposa è arrivata, stiamo per iniziare! Ecco la sposa! E' arrivato un messaggio? Ok, aspetta che parcheggio un attimo! Allora, un messaggio dal robottino che taglia l'erba, che dice che si è bloccato e in giardino ho montato delle telecamere! Vediamo cosa è successo! Ok! Ma perché c'è tutta questa confusione in giardino? Ma Giorgia, com'è vestita? Ma quello è Mattia? Ma vestito da sposo e Giorgia pure! Ma si stanno sposando! E Giorgia si sta sposando col bambino che odio più al mondo! No, no, no! Devo andare subito a casa! Ragazzi! Ma non si accende la macchina! Siete qui di fronte a questo altare! Insieme a tutti i vostri cari invitati, siete pronti ad amarvi, cocolarvi, condividere giocattoli, bambole e macchine! Non si scaricano! Mi tocca andare a casa a piedi! C'ho già il fiatone! Ok, controlliamo la situazione! Ma io dico, vabbè, si sta sposando con Mattia! Mattia? Sì, bro! Giorgia! Sì, lo voglio! Se qualcuno non fosse d'accordo, si pronuncia adesso o taccia per sempre! Sì, sì, io sono contrario! Sono contrario, ma non mi sentono, non mi sentono! Devo raggiungere prima che si sposano! Prego, alzatevi e scambiatevi l'anello! Giorgia, ti prendo come mia sposa! Mattia, ti prendo come mio sposo! Devo arrivare prima che si sposino! Prima che si danno il bacio! Ma poi io dico, ma la mamma, perché li sta facendo sposare? Non ce la faccio più! Per sposare! Ho perso anche la ciabatta! A questo punto, cari figliuoli, vi dichiaro, marito e moglie! Mattia, puoi bensì baciare la sposa! Si stanno per baciare! No, no, si stanno per baciare! No! No! Dove siete? Cezia! Giorgia! 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 Ma... Non c'è nessuno qui? Ma, Babbo, ti senti bene? Sì, sto bene! Ma senti un po'... Ma Mattia dov'è? Ma, Babbo, Mattia è andato via dieci minuti fa! Li hai chiuso se la porta, non ti ricordi? Ah, sì, mi ricordo! Ok! Eh, ciao! Ah! Ti ando il punto! Aiuto! Ti ando il punto! Ah, ti ando il punto! Ah! Aiuto! No! Aiuto! Ma perché c'è tutta questa confusione giù? Che sta combinando, Giorgia? Eh, dove vai? Eh, sto andando giù perché c'è una confusione tremenda! Eh, sì, è vero, c'è confusione! Però non ti arrabbiare quando scendi, ok? E perché mi dovrei arrabbiare? Eh, a faccia di piano piano e poi lo vedi! Eh, però se mi parli già così vuol dire che mi devo arrabbiare di sicuro! Andiamo a vedere! Ehi, fermi voi due! Mattia? Ma cosa ci fai qui a casa nostra? Ma dai, babbo! L'ho invitato io per giocare, no? Ma dai, Giorgia! Ma con tutti gli amichetti che ci sono a giro, che hai? Devi forza sempre chiamare Mattia! Ma ogni tanto chiamalo qualcun altro o qualcun'altra! Non so, chiamatea, chiami Sofì, chiami Giada! Eh, no, sempre Mattia, giusto? Ma Uffi, babbo! Sei sempre il solito! Non si può mai invitare Mattia! Oh! E me lo do che l'altro fa questo e fa quest'altro! No, babbo! Ormai è da un anno che dici sempre le stesse cose! Ma non ti sei annoiato? Vabbè, di questa cosa ne parliamo dopo, quando Mattia è andato via! In ogni caso, guardate! I cuscini a terra, i divani tutti spostati! Eh, basta! Fermatevi! E poi, scusami, tu non dovevi fare i compiti? Allora, li ho già fatti, però... Mi mancano delle cose! Ah, io li ho già fatti tutti! Ah, ha visto che qualcosa ancora devi fare? Allora, facciamo così! Mettiti in pari con i compiti, e se no, Mattia lo prendo per l'orecchio e lo butto fuori di casa! Che dici? Ok, babbo, li faccio! Però, mi aiuta Mattia! Va bene, però, sei tutti distanti, ok? Sì, 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 babbo, va bene, andiamo! Comunque, ragazzi, il babbo è proprio noioso! Voi lasciate tantissimi pollicioni, e iscrivetevi al canale e continuate a seguirci! Ciao ragazzi! Sì, è uscito il nostro primo libro! Lo potete trovare in tutte le librerie d'Italia, oppure su Amazon! Correte a comprarlo! Sapete perché oggi mi dava facile vedere Mattia? Perché ancora sto male dall'altra volta! Perché ho fatto un brutto sogno, anzi, ero un incubo a causa di Mattia! Non ve lo ricordate? Guardate un po'! Prego, alzatevi e scambiatevi l'anello! Devo arrivare prima che si sposino, prima che si danni il bacio! Si stanno per baciare! No, no, si stanno per baciare! Vi rendete conto? Meno male che ero un incubo! Ecco, ecco, di nuovo insieme! Eppure gliel'avevo detto, fate i compiti, ma distanti! Loro non riescono mai a stare separati! Ecco, guardate, sempre insieme! Giorgina, Giorgia, ascoltami un po'! Che cosa ti avevo detto prima? Di stare separati! Quindi, Giorgia, alzati, per favore! Veloce, veloce, veloce! Seduta qui! Mattia, alzati! E ti metti seduto lì! Dai, per me non sto facendo niente! La stavo solo aiutando! Babbo, ma se lui sta laggiù, come fa ad aiutarmi? Si può fare, non è che siete in un'altra casa! Tu sei qui e lui è lì, ok? Magari comunicate alzando un po' più la voce! Ma non di stare distanti, così come siete! Ok? Ci siamo capiti? Si! Ci siamo capiti? Va bene! Ehi, bro, ci siamo capiti? Sì, dai! Sempre le stesse cose, dici! Eh, sì, lo dico sempre perché voi non mi ascoltate! Comunque, fate i bravi! Ah, sapete che cosa faccio adesso? Mi metto seduto sul timarano, con un occhio guardo la televisione, e con l'altro occhio guardo voi due! Ma sto scherzando! Vica se è un cavaleonte! Ora voglio proprio vedere! Mattia, questo matrimonio è stato veramente bello! Sì, è vero, è stato veramente emozionante! Mamma, mamma, noi si mangia qualcosa perché questo matrimonio ci ha fatto venire fame! Ok, andiamo Lucio, si va fuori! Oh, Cizia, sento qua, ma Giorgia dov'è? È a fare merenda, è da sola, è a fare merenda! Ah, ok, va bene, io porto Lucio fuori che è da tanto che non va a fare la pipì! Diamo Lucio! Mattia, se non sbaglio, ora che siamo sposati, che l'ho visto nei film, dopo essersi sposati, si deve andare a fare un viaggio di nozze, no? Sì, è vero, l'ho fatta anche il mio papà e la mia mamma! Hai visto? C'aveva ragione! Però non saprei neanche da dove iniziare! Aspetta, ho un'idea! Chiediamo alla mia mamma e l'avrò fatto col babbo, no? Mamma, mamma! Che succede? Ditemi! Visto che io e Mattia ci siamo sposati, dovremo fare il viaggio di nozze, che ci potresti dare una mano? Perché non sappiamo che fare e cosa fare! Anch'io l'ho fatto con il babbo, sapete? Siamo andati in Messico! Per organizzare un'ok, per prima cosa bisognerà andare all'agenzia di viaggi, vi ci sapranno dire che cosa dobbiamo fare, no? Sì, che bello! Andiamo! Però prima, andatevi a cambiare, non si può neanche andare in giro vestiti da sposi! Su, via via via! Che belli, non vedo l'ora! Allora ragazzi, siete pronti? Sì! Andiamo! Lucio, io direi di rientrare perché ti fa freddo e anche a me, che sta piovendo, andiamo, dai! Cinzia? Salvo! E dove vai? Eh, devo andare che mi manca una cosa, quindi la devo andare a comprare, va bene? Ciao, a dopo! Andiamo Lucio che fa freddo, andiamo! Dai! Bene ragazzi, guardate, siamo arrivati all'agenzia di viaggi! Qui dentro ora ci consiglieranno dove potrete andare a fare il viaggio di nozze, siete contenti? Sì! Sì! Sì mamma, non vedo l'ora! Chissà che cosa ci consiglierò! Ciao! Ciao! Ciao ragazzi, datemi un minuto, guardatevi in giro! Ok, grazie! Cosa hai visto? Ma che storia? È con la nostra esperienza, esplore il mondo con i tuoi occhi! Ragazzi, mi sono liberato, accomodatevi tre! E vai, tocca a noi! Ragazzi, che cosa vi serve? Dove volete andare? Allora, questi due ragazzotti qua si sono appena sposati e vorrebbero andare in viaggio di nozze! Cosa ci puoi proporre? Allora, vi proporrei l'Egitto, fa un caldo bestiale e c'è da prendere l'aereo! Sì, che bello! In Egitto, come sapete ragazzi, ci sono già stata ed è bellissimo! Eh, Giorgia, però io so paura, c'è da prendere l'aereo! Eh, vabbè, c'è qualcos'altro da proporci! E se vi proponessi una crociera? Sì, la crociera non l'ho mai fatta, sarà divertentissimo! Eh, Mattia, io come hai fatto così con l'aereo? Non ci sono mai andata in crociera e ho mal di mare! Vabbè, però ragazzi, mettetevi un po' d'accordo, eh! Da qualche parte bisognerà pure andare, no? Allora, fatemi vedere per bene, fatemi vedere, questo no! Eccolo, questo! Perché non andate in un parco divertimenti? Giostre, montagne russe, salti da tutte le parti! Sì, che bello! No, montagne russe! Oh, spero che ci sia il giro della morte, è troppo bello! Mattia, te che ne pensi? Sì, che bello, questa idea mi piace! Oh, finalmente siete d'accordo! Perfetto! Ci può fare tre biglietti? Biglietti! Ecco qua, questi sono i tre biglietti! Grazie! Vi ho anche prenotato un hotel tematizzato, ma non vi dico niente, è una sorpresa! E vai! A me piacciono un sacco le sorprese, però sono troppo curiosa! Mamma, quanto si parte? Presto, amore, presto! Sì! Ragazzi, allora, siamo fermi all'autogrill, che ne dite di fare un po' di pipì? Sì, mamma, perché a me mi scappa tantissimo, ho dormito finora! Eh, lo so, lo so, non è che siete stati tanto di compagnia! Comunque, io ho un po' di fame, vorrei anche un caffè, andiamo! Allora ragazzi, un po' di spesa direi che l'abbiamo fatta, quindi, prossima tappa... Gardaland! Andiamo! Allora ragazzi, come va con questo viaggio? Benissimo! Che state facendo? Io sto giocando a toca-boca, però è da un'ora che ci gioca e mi sto annoiando! Forse ho io la soluzione, Giorgia! Che ne dite se mettiamo la nostra nuova canzone? Sì! Buon Natale a tutti quanti, ai più grandi e più piccini! Buon Natale a te che canti, è la festa dei bambini! Buon Natale in compagnia Il più bello che ci si là Buon Natale insieme a noi Che pensiamo sempre a voi Allora ragazzi dai Manca un'ora e siamo arrivati Sììììì Contenta Mattia? Sìììì Nessuno? Giorgia? Cinzia? Ragazzi ma sono passate tre ore E ancora non sono tornati Eh Eh? Una messaggio? Ma chi è? Agenzia di viaggio, la sua prenotazione per il viaggio di nozze a Gardaland è stata confermata grazie agli sposi Giorgio e Mattia. Grazie agli sposi Giorgio e Mattia! Mattia, Giorgia, Giorgio e Mattia, viaggio di nozze, quindi si sono sposati? Ma scusate, ma non era un brutto sogno quello che avevo fatto l'altro giorno? No, no, mi sa che è tutto vero. Aspettate, ahi, è vero, si sono sposati! E adesso, e adesso che cosa faccio? E questi si sono sposati, no, deve essere forse un brutto sogno, deve essere forse un brutto sogno. Ora io li chiamo e loro sono qui. Giorgia? Cenzia? Mattia? Mi sa che è tutto vero allora. Allora, no, no, allora mi devo muovere, ora mi vesto, faccio la panigia e mi devo raggiungere Prima che si vadano a divertire e vanno a dormire insieme. Perfetto. Allora ragazzi, avete visto dove vi ho portato? A guardala! Sì mamma, siamo contentissimi, sono felicissima di questo viaggio di nozze. A te Mattia ti piace? Sì, guarda, è veramente bello! Allora, da dove vogliamo iniziare? Io voglio andare alla casa di prezzemolo. Che ne dici Mattia? Prima, va bene. Allora andiamo! Ragazzi, mi sa che sono nel posto giusto, il parco dovrebbe essere questo, aspetta che controllo, Gardaland, Gardaland, il parco è questo, quindi devono essere per forza qui, le devo trovare per forza. Ma dove saranno? Ma dove saranno? Ragazzi, Mattia, guardate, siamo arrivati alla casa di prezzemolo. Mattia, te lo giuro, è fighissima! Ma ragazzi, dimenticiamo, lasciate tantissimi pollicioni e continuate a seguirci. Andiamo? Andiamo! Mamma mia ragazzi, non sono voi due, ma a me mi è preso un mal di stomaco. Sì mamma, ma a me non mi è venuto il mal di pancia, a me mi è venuto il... mi girava tantissimo la testa, a me la casa di prezzemolo mi sembrava più una giostra per bambini, però ora che ci penso mi è venuta una grande fame, andiamo a mangiare? Mattia, cioè siamo in un parco giochi gigante, un viaggio di tre ore e penso solamente a mangiare, cioè scusami. Eh vabbè, comunque andiamo a mangiare, che anche a me mi è venuta un po' di fame, andiamo? Andiamo! Ragazzi, mi sa che qui dietro c'è un fast food, andiamo? Sì, fast food, spero che ci sia un panino o un hot dog, chiamati. Sì, anche un hamburger. Io, hamburger e hot dog, e patatine, e un altro hamburger, andiamo. Sono sporcata di ketchup. Mattia, c'hai fame? Sì, Giorgia, avevo una fame, stavo quasi per mangiarti. Ragazzi, mangiate piano, perché non è che con tutto questo cibo dopo mi vomitate nelle giostre? No, mamma, non ti preoccupare, non ti vomiterà. Ragazzi, ma qui c'è un problema molto grosso, siamo in un parco giochi ed è infestato di piccoli mocciosi, cioè tanti bambini. Come faccio a ritrovare Giorgia? Poi, di sicuro, avrà messo un cappello e quindi i capelli ce l'ha coperto dal cappello, quindi non riuscirò neanche a vedere le giocche rosa. Come faccio? Oggi sarà una missione impossibile trovarli, ma li devo trovare per forza. Vediamo se riesco a riconoscere almeno la mamma. Mattia, sto cadendo su di te. Questo è il corpo. Aiuto! Chiudo! Ragazzi, sarà circa un'ora che li sto cercando, non trovo né la mamma, né l'antipatico di Mattia, né la Giorgina. Non so, dove andarla a cercare? Ora chiedo a qualcuno, vediamo se magari hanno visto Giorgia. Scusate, scusate il disturbo, so che state mangiando, magari vi mandate a quel paese, ma per caso, avete visto una bambina con un bambino? La bambina è molto riconoscibile, ha delle ciocche rosa, un maschietto biondino. Ah, il maschietto l'ho visto io, l'ho visto, è andato lì là, si tenevano per mano. Addirittura? Sì, 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 si tenevano per mano. Ok, vi ringrazio tanto. Mi spiace. No, va bene, grazie, ciao. Ragazzi, avete sentito, forse hanno visto Giorgia con un maschietto che si tenevano per mano. L'hanno visto per quella zona lì, quindi non mi resta che correre e vedere se riesco ad accapparli. Speriamo di trovarli. Ragazzi, si sono fatte le quattro, anzi quasi le cinque, e di Giorgia, della mamma, e di quel, Mattia, ancora non l'ho trovati. E, lo sai che vi dico, tra un po' vado in albergo e spero di trovarli lì, spero di avere un po' di più fortuna. Ragazzi, come vedete, si è fatta sera. Abbiamo terminato la nostra giornata al parco e adesso non ci resta che andare a vedere la supercamera che ci hanno riservato. Siete curiosi? Sì, mamma, io sono curiosissima. Chissà che tema sarà. Se volete vedere che tema è la camera, pure voi, lasciate tantissimi pollicioni e continuate a seguirci. Mattia, che arriva prima in camera, è il vincitore. Aspettatemi. 5218. Ma dove sarà questa stanza? Ragazzi, sono, penso, arrivato all'hotel dove loro dovrebbero dormire questa notte. Adesso non mi resta che sperare di trovare Giorgia e mamma e Mattia. Spero di essere il posto giusto. Bellissimo. Bello. Che carina. Vieni, Mattia, guardiamo cosa c'è di là. Questo è mio, però. Allora, ragazzi, che ne dite? Vi piace questa stanza per il vostro viaggio di nozze? Sì, mamma, è bellissima. Non me l'aspettavo che era così bella questa camera. Mi ho. Il Twister, che figo. Ragazzi, guardate, leggete un po' qua. Il tesoro ha perduto la giungla selvaggia porta con sé molti segreti da svelare. Un tesoro? E come si fa? Presto si sono appostate e contatele e avrete il primo numero della combinazione. Ok. Ragazzi, è da circa mezz'ora che sta girando per tutti questi corridoi, ma non vedo nessuno. Sono tutti chiusi nelle camere e non so neanche in quale camera posso bussare, perché ce ne sono così tante. Rischio che qualcuno esca e si arrabbia anche con me, perché ho bussato. Questa cosa sta diventando veramente un incubo. Sembra un brutto sogno. Non so dove andarla a cercare, qui c'è un altro corridoio. Ragazzi, finalmente dopo 20 minuti di ricerca abbiamo trovato la combinazione. Chi la digita? Io. Flick privato. Allora, pronta? Sì. 3, 8, 4, 2, Enter. Cosa c'è? Ah, wow! Un altro! Un altro sinistro. Ta-da! Quindi a questo punto ragazzi ce ne abbiamo due. Uno per me e uno per Mattia. E pensate che io mi volevo prendere il regalo che c'era dentro perché mi sembrava particolare. Invece no, è quello che abbiamo trovato lì. Ragazzi, basta, non ce la faccio più, sono veramente stanco e esausto. Io direi che posso terminare qui questa ricerca in vana, perché da stamattina li sto cercando, ma niente, di loro non c'è traccia. Mattia, vi giuro che non entrerà mai più in casa nostra. Senti Mattia, che si può andare fuori che ti devo dire una cosa? Una cosa? Che cosa mi devi dire? Eh, non te lo posso dire. C'è la mamma. Va bene. Aspetta Mattia che dico alla mamma che dobbiamo un secondo uscire. Mamma? Sì amore? Eh, io e Mattia vogliamo andare un secondo fuori. Mmm, a fare che cosa fuori? Ah, un po' a giocare perché qui dentro mi fa un caldo. Va bene amore, però una cosina veloce perché poi dobbiamo andare a cena, ok? Va bene. Vi andiamo inizi veloce. Mattia, questa cosa che ti devo dire è che ci siamo sposati. Stiamo facendo il viaggio di nozze ma ancora non ci siamo baciati. È vero Giorgia, però io un po' mi vergogno e poi c'è sempre la tua mamma accanto. Eh sì, questo è vero, ma guarda la mamma non c'è. Ma, ma, ma quelli, ma quelli sono, quelli, ma quelli sono, quelli sono, quelli sono Mattia e Giorgia che si stanno, si stanno baciando. No, 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 no Sì Mattia Ma Vuoi essere qui? Sì babbo Siamo qui Come tu ci hai messo Eh Sì Vabbè Comunque è passata già un'ora E passa a studiare Vai Continua la prossima volta Babbo Stai bene? Perché sono passati Cinque minuti Da quando abbiamo iniziato Sì Vabbè Comunque Mattia può tornare a casa sua Andiamo Vieni Dai Su Vieni Sempre insieme Quei su due Non mi sopporto più Andiamo Te Mattia vieni Questa Vieni veloce Non te la metti Te la metti poi Quando sei a giro Via Ciao Non tornare mai più Ciao Ragazzi Io Questo bambino Non lo sopporto più Ogni volta Vieni a casa nostra Io Faccio un brutto sogno Faccio degli incubi Era un brutto sogno Vero? Vabbè Non lo faccio più Tornare a casa Ma Oggi il babbo È proprio strano Ragazzi Sono contentissima Vi devo dire Una cosa importante Sono contenta Ciao Oh Giorgia Vieni qua Ma siete andate a scuola? Sì Dà un bacino Senti un po' E com'è andata? Molto molto bene E senti un po' Andiamo a fare merenda No babbo Non posso Perché C'ho da fare Molti compiti Ancora compiti? Sì Ok E allora Va bene A dopo Va bene Ciao Ragazzi Sono contentissima Perché oggi Verrà di nuovo Mattia Il mio fidanzato A casa Ve lo ricordate? Ciao 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 Ben arrivato Eh Giorgina Siete un po' Chi è questo qui? Sì Lui si chiama Mattia Ah Ciao Mattia Ciao Bruce Ma come parla questo? Ehi Vai un po' Vai dove? Ora ci penso io a lui Però come sapete C'è sempre un problema Il babbo Che è troppo genoso E non vuole che io abbia fidanzati Ora Mattia Sta per arrivare E mi devo inventare qualcosa Per farlo entrare Senza che il babbo lo scopre Che cosa mi vuole inventare? Mancano pochi minuti Dai Giorgia Attiva il cervello Attiva il cervello Giorgina Giorgina Siete un po' E io ci resta a portare i cani fuori Per piacere? Ah no Mi è venuta un'idea? Ciao ragazzi È uscito il nostro primo libro Lo potete trovare in tutte le librerie d'Italia Oppure su Amazon Correte a comprarlo Eh no babbo C'ho tanti compi da fare Se l'ho detto anche prima E lo potresti portare Sì nel cane fuori Va bene Lo porto io Poi quando hai finito Scendi giù Va bene? Sì Lucio Andiamo fuori Su Andiamo Andiamo Lucio Ehi Andiamo Andiamo a fare la pipì Su Mi ha detto Giorgia E non devo suonare La devo chiamare dal cellulare Pronto Giorgia? Pronto Mattia Sono qui davanti al cancello Ah sì al cancello? Ok si apro subito Mi raccomando ragazzi Iscrivetevi al canale E lasciate un bel pollicione E mi raccomando Non scrivete niente nei commenti Perché se no il babbo si arrabbia Adesso vado ad aprire Il mio fidanzato Come si Lucio Pura a farla Lascia Lascia Hopla Vedi Uno Due Uno Due Spendi Dobbiamo andare subito su in camera Perché se ci scapre il babbo Sono guai Ok saliamo Meno male che il babbo non ci ha visti Eh sì Mattia sono contenta che sei tornato Anch'io sono contento di essere qui Dai giochiamo a qualcosa Sì dai Inizio Ok Ok Porta Aia Pocca a me Mattia ti posso fare una domanda? Cosa vuoi sapere Giorgia? L'altra volta quando eri a casa te lo ricordi? Ma dove te ero nascosto che non ti trovavo? Perché la casa è grande ma non ha tanti nascondigli In realtà mi ero nascosto dietro la porta dove ci sono le scale Ad un certo punto volevo andare via ma la porta era chiusa a chiave Come hai chiusa a chiave? Fammi pensare Forse ho capito È stato il babbo a chiuderti lì dentro Perché Non lì stai tanto simpatico Mai non gli ho fatto nulla al tuo babbo Eh sì però lui è Molto geloso Fatta Bravo vai a cuccia Ragazzi ma è passata circa un'oretta E ancora Giorgia sta studiando Ma può essere Ma poi non capisco io Cioè mancano tre giorni alla chiusura della scuola E gli lasciano ancora tutti questi compiti Giorgia Giorgia C'è il babbo C'è il babbo Giorgia Mattia c'è il babbo ti devi subito a nascondere Giorgia dove mi nascondo? Non lo so Mattia non lo so C'è un'idea Giorgia mi metto sotto la schivania No no Mattia no perché sento lo scopri Cioè ce l'avevo io un'idea mettiti dentro l'armadio Perfetto Penso che lì non ti posso trovare nessuno Giorgia Che c'è babbo? Giorgia vedo che hai finito di fare i compiti eh Eh sì Ah sì sì ho finito Allora hai finito quindi Che fai me li fai controllare? Eh ma che babbo Ormai sono quasi in seconda e non ci sono errori non ti preoccupare non c'è bisogno di controllare Va bene Giorgia allora dai andiamo a fare merenda Eh sì ok io intanto vai arrivo tra qualche secondo Ci è mancato poco E Mattia su esci Non respiravo più E adesso respiri Comunque Mattia al babbo le la devo far pagare Perché l'altra volta si è comportato malissimo con te Eh sì un pochino Però non mi sono offeso No invece lì devo trovare una punizione Cosa si potrebbe fare? Devo trovare qualcosa Dove io e te possiamo giocare senza che il babbo ci dà fastidio Ho un'idea Cosa c'ha in mente Giorgia? Possiamo chiudere in bagno Così noi facciamo quello che ci pare E come facciamo a chiuderlo in bagno? Dai vieni con me Oddio aspetta qui Ok Papbo Oh che c'è Giorgia aspetta dimmi Si è rotta la sciacquola del bagno Ma come si è rotta la sciacquola del bagno Giorgia? Ma ci sono stato tre secondi fa e funzionava Papbo ma ti giuro sei rotta vai a vedere Guarda a vedere ma secondo me funziona Ma prima funzionava Ti giuro ragazzi che prima funzionava lo scarico Ma come può essere? Fammi vedere Ecco fatto Mattia Ho chiuso il babbo in bagno Adesso possiamo fare tutto quello che ci pare E cosa facciamo adesso? Ti va se ci strafoghiamo di patatine? Si Giorgia a me mi piacciono un sacco le patatine Allora andiamo Eccomi Mattia Guarda che pacco enorme di patatine Mmm 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 Gnomi gnomi Mmm Mmm Quanto sono buone queste patatine Ragazzi Ma che mi volete lasciare tutta la giornata di un tir in bagno? Aiuto Mi aprite? Vi sentite? Che cosa stanno facendo quei due? Mi aprite? Aiuto Mi aprite? No Ma è il tuo babbo? Ma è bello ? Lo cero stare là dentro V44 Abbiamo faisevenso Nelいきます E. Ringasci Mattia Lo sai qual è la cosa che ora dipende il babbo? cosa? quando saltiamo sul letto siiii ha fatto una altra giornata quando voglio sospare wow wow guarda cosa può fare anche guarda guarda mattia facciamo una gara di chi salta più alto garlo giga ma sei sicura che il tuo po poi non si arrobbia? Tanto non lo scoprirà mai è chiuso in bagno mattia ma ti has un'idea di gioco perché noi giochiamo il pavimento e invade? che bella idea Giorgia ooooh il movimento quando non lava non voglio scendere mattina abbiamo perso tutte e due il movimento è lava mattina devi guardare il mano? va bene si fa questo prima guarda Giorgia sta vincendo no invece non stai vincendo si l'ha raggiunto ma io lo faccio anche io uno due tre wow questo ragazzo non mi piace proprio ma poi parla anche strano non capisco sempre con quel bro bro ma che dici non lo capisco e di sicuro proverà in tutti i modi a mettere le mani a Giorgia oppure anche a baciarla e io non voglio devo trovare un modo per uscire qui comunque non mi piace non mi piace non mi piace ragazzi se siete d'accordo con me lasciate un bel like e ovviamente iscrivetevi al canale ieri ce l'ho fatta mi aprite? mi aprite? oh ma perché non ci ho pensato prima ragazzi ma qui c'è la finestra e se non sbaglio noi non siamo al secondo piano o al primo siamo al piano terreno cioè vuol dire che se io apro la finestra la posso scavalcare fare il giro della casa ambire la porta e bencare quei due e farò proprio così non mi capisco perché ci ho pensato prima non mi capisco perché ci ho pensato prima non mi capisco che ci ho pensato prima a vedere un film si che bello è una buona idea forse questa volta riuscirò a dargli un bacio forse questa volta riuscirò a dargli un bacio ragazzi sono insieme sono sul divano ma che sta facendo? guardate la bocca è come una proboscide vuole baciare Giorgia lo devo fermare Mattia dove è capo? con le mani da dove sono con Giorgia no bro non ho fatto niente vieni qui vieni qua vieni qua dove sei? no c'è il babbo come ha fatto a scappare? no Mattia corri più veloce che poi Mattia non ti far prendere ho preso vieni qua no bro non ho fatto niente non hai fatto niente con questa faccina? guarda che tu hai visto dalla finestra che stavi baciando Giorgia questo non si fa eh guarda che c'è la mamma che ti sta aspettando fuori vieni con me vieni ok e non ti far più vedere a me l'ho cacciato via ciao Giorgia babbo ti odio ti comporti sempre male con mio fidanzato cioè lui viene e te lo cacci via di casa è possibile non ti voglio più parlare eh ok Giorgia ciao eh ragazzi ci mancava poco la stava quasi per baciare invece sono stato così bravo che l'ho preso per l'orecchio come avete visto e l'ho buttato via fuori di casa sono proprio bravo anche se sono un po' districciuto per Giorgia Giorgina Giorgia il babbo si è comportato veramente male con Mattia non le voglio più parlare ora vi voglio lasciare perché sono triste se questo video vi è piaciuto a me no lasciateci davanti like attivate la campanella degli aggiornamenti e se ancora non l'avete fatto iscrivetevi al nostro canale e io arrabbiata con il babbo vi saluto con un grande wow ciao al prossimo video 1,2,3 wow noi siamo Salva e Giorgia wow il video è sempre una pioggia con mamma ci seguiamo che ne combiniamo tra giochi e risate sai che ci giochiamo wow tanto divertimento ma che casino